Inizia la carriera verso la fine degli anni 50 con i White Booster, una band con cui si esibiva nelle sale da ballo. In seguito fa parte per due anni dell'orchestra di Mario Perrone. Dopo una pausa per prestare il servizio militare, inizia ad esibirsi nei club di varie città italiane insieme ai due fratelli Gigi e Franco Campanino. Con i Campanino, complesso che apre nel 1965 alcune serate dell'Equipo 84. Si trasferisce quindi a Milano dove suona con gli inglesi Simon & Pennies per passare poco dopo con, quelli, la band che successivamente diverrà la PFM premiata Forneria Marconi. Dove è stato chiamato per sostituire Franco Mussida impegnato a svolgere il servizio di leva. Con questo complesso Radius incide le prime canzoni e sviluppa un suo personale modo di suonare la chitarra. Rientrato Mussida, Radius lascia la formazione. Su suggerimento dell'impresario Franco Mamone, insieme con Tony Cicco e Gabriele Lorenzi fonda il complesso Formula 3, successivamente, dopo l'incontro con Lucio Battisti. Il complesso di F3 debutta con l'etichetta appena fondata dal cantautore, la numero 1, incidendo un brano dello stesso Battisti. Questo folle sentimento, che si piazza al quinto posto della classifica dei dischi singoli più venduti in Italia. Il primo album di Esirah è del 1970 ed è proprio il suono della chitarra di Radius a costituire la trama dell'album. Pur continuando a lavorare e a riscuotere successi con la band, Radius, due anni dopo incide il primo album da solista, Radius, Alla registrazione del quale contribuiscono alcuni celebri strumentisti della musica rock italiana, degli anni 70 tra cui Demetrio Stratos, Giulio Capiozzo, Patrick Di Givas, che poco dopo daranno vita agli area, Franz 18 e Giorgio Piazza della premiata forneria Marconi, Gianni dall'aglio e Vince Tempera. Nel 1974, dopo lo scioglimento dei Formula 3, Radius insieme a Mario Lavezzi, ex Camaleonti e Flora Fauna ed Cemento, Vince Tempera, Gianni dall'aglio, ex Ribelli, Bob Callero e all'altro ex Formula 3 Gabriele Lorenzi fonda una nuova band, Il Volo, prodotta dal duo Mogol Battisti, che incide due album che si caratterizza per certe sonorità mediterranee, dopo lo scioglimento del complesso Il Volo. Nel 1976, Radius incide il suo secondo album a solista, Che Cosa Sei, che segna una svolta musicale nella sua carriera. L'anno dopo esce il suo album di maggior successo, Carta Straccia, grazie soprattutto a Nel Ghetto, intenso brano rock che anni dopo verrà reinterpretato dai fratelli di Soledad e dai genere Parto. Corse, in contemporanea comincia un'intensa carriera di session man che lo vede al fianco dei maggiori cantanti italiani, tra cui Lucio Battisti, Marcella Bella, Goran Kuzminak, Pierangelo Bertoli, Loredana Bertè, Franco Battiato e dei vari artisti con cui ha lavorato il cantautore siciliano in quel periodo. Alice, Milva, Sibilla, Giusto Pio e Juni Russo, di cui spesso era anche autore e produttore. Nel 1978 apre lo studio Radius, in cui inciderà i suoi album successivi. Nel 1986 costituisce i Cantautores, band con cui partecipa a varie trasmissioni televisive di revival musicale e con cui incide due album, Cantautores e la Terra siamo noi, in cui convivono vecchi successi e nuovi brani. Nello stesso anno suona la chitarra nella sigla del cartone Holly e Benji due fuoriclasse cantata. Da Paolo Picutti, in collaborazione con Gigi Cappellotto al basso e Alfredo Golino alla batteria. A cavallo tra gli anni 80 e 90 partecipa al programma televisivo d'Italia 1 Una Rotonda sul mare. Condotto da Red Ronny, nella prima edizione come leader e led guitarist per accompagnare i cantanti in gara nella Seconda edizione nella duplice veste di accompagnatore e di partecipante alla gara come membro del suo vecchio complesso Formula 3. Nel 2007, insieme ad Oscar Avogadro, scrive la musica del brano Musica e parole con il quale la cantante Loredana Bertè, autrice del testo, partecipa all'anno seguente al cinquantottesimo festival di Sanremo. Il brano determina la squalifica della cantante dalla gara, dopo la sua esibizione durante la seconda serata, in quanto la canzone si scopre essere una variante, con testo e arrangiamenti diversi, di un precedente brano scritto dagli stessi Radius ed Avogadro. La parte musicale, infatti, era stata già composta nel 1980 e, con un altro testo, interpretata una prima volta, nel 1987, col titolo Solo tu, dai Los Angeles T.F., e una seconda volta, l'anno successivo, col titolo L'ultimo segreto dalla cantante Ornella Ventura. Solo questa seconda versione fu effettivamente incisa e depositata alla CIA e pubblicata nello stesso anno nell'album Sesto Senso di Ornella Ventura dall'etichetta discografica ANAR International. Ultimi lavori discografici sono Banca d'Italia del 2013. CD-LP, pubblicato da Videoradio e prodotto da Beppe Aleo, che è l'ultimo disco con i testi scritti da Oscar Avogadro prima della sua scomparsa, e firmati per motivi legali dalla moglie del paroliere, Laura Pertusi, e Una Sera con Lucio del 2015, sempre pubblicato da Videoradio e prodotto da Beppe Aleo.